Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video Oh, aiuto, aiuto Oh mio dio Stupido pollo, mi hai fatto qualcosa del male Usa la ghost hack Bannatelo da Minecraft Bannatelo, bestia Ma non stuprare i villageri Guardalo, guardalo Ma no, guardalo Ma no Ma no Mio dio Mi sta usando il culo Mio dio Non usalo Ok, aspetta, sono bloccato No, sono bloccato No, mi sta bloccando Oh, ohioio Ok, adesso mi funziona Aspetta Ops Non avevo passato il volume Eh, dannazio Che devi sempre ammantare il volume Eeeeeee La data non parla, mi dispiace E allora Cribios Ok, a dove? Allora ragazzi Questa sarà la nuova serie La nuova serie di Minecraft Invece della vecchia serie Quella non ci sarà più Per vari problemi tecnici Ovvio Infatti ora non ce l'ho più su Minecraft E sta eliminato E ha eliminato il suo E beh Lascia perdere Io sto usando i ghost hack Perché lui è un log Un hacker Lui è un hacker Tu sei più hacker Eh, sei più Dio hacker Eh, io voglio trovare una cosa Aspettate Ehm, dov'è? 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 Dov'è la cosa per fare il knockback? Dai, non mi uccidere No, no, io voglio provare solo Che mi piace Allora, io voglio provare Ti sono bloccato, ti rendi conto? Ti sei bloccato? Ti rendi conto? Mio Dio! Guarda, guarda, guarda Aspetta Uiii Mio Dio, come vola? Anzi, non vola mai Scusate, scusate per La mia voce Oh, è morta Povera scimmia Eh, non è una Scimmia 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 No, ho detto pecora Perché in inglese significa ship Comunque, facciamo cos'è Che cazzo Ma perché questa non vola? Dannazione Allora, prima Io sto prendendo Sta prendendo legno? Io sto Io sto Aia Il ginocchio Scusa Ero a casa di John adesso Ok Ero? Non sai parlare o cosa? Tu non sai parlare più di me Scherzi In inglese Oh, eh Oh, guarda Una Un fiore Oh Azzurro Ballet Non so che名 Ballet Grazie Ehm Grazie Che è una costosità Allora voglio fare questo Aspetta Ok Prima mi dici che ti uccida Adesso un'altra cosa Andiamo Ok facciamo la casetta Facciamo cose utili dai Dove facciamo la casa? Oio O cesto O cesto Dai vieni qua Creep Vai Ma che cavolo Un creeper Un creeper È un creeper Non so se togliamo Che c'è? Che c'è? Ok dai facciamo la casa maledetta Ok casa maledetta No la casa maledetta Lo facciamo qui Un classico Un classico La casa Aspetta Lo facciamo qua? Eh sì Eh vabbè aspettate No 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 Non uccidere quei fiori Sono bellini Sono così Così Vendicativi No Non uccidere Facciamo qua Facciamo qua Di qua Di qua è uno spazio Cioè facciamo anche una piscina qua Quindi Mettiamo qua Cioè mettiamo qua Qua è spazioso Di qua è spazioso Qua Qua io sto saltando come Come dei bambini E io non so Certo tu sei una gamba Anche tu Io ho fatto terza media E tu invece Ancora in seconda Però in verità Sono più grande io E perché Sei Ai 13 anni E tu sei ancora in seconda Perché sono arrivato Dopo Nell'elementare Aia No 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 Scusa Quanta che è questo No 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 Scusa Schercia Aaaaaah 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 Creeper Aiuto E questo che volevo fare Cretino Creeper Aiuto Ti aiuto io Idiota Aaaaaah Esplodi Però tu no Non sei morto Morrici Morrici Non pari niente Ok I gioco Le seconde volte Facciamo Cosa cosa Creeper Antenne che mi pareci frare Ma cioè Ma cioè Ma Ma Giorgio Metti la tela qua Aspetta Aiuto Si Aspetta Dove Dove Ah ecco Allora Eh Oh scusa Aiaa No scusa Basta Ok Stufra Ok Ok Oh no no Stai Vai di là Vai di là E ha mangiato Spinata Un cuore Un cuore e mezzo Un cuore e mezzo Un cuore e mezzo Un cuore e mezzo Ok ok Io vedo soltanto Un bosco infiammarsi Quindi Yeah Ciao Io faccio la mia tassa Povera 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 natura Povera natura Ma povera natura Povera natura Povera natura Basta Io mi suicido Scherzi Anzi io devo prendere queste cose Io dico trollololollo Perché qualcuno l'ha fatto Qualcuno L'ha fatto No 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 Stavo affogando Stavo affogando Stavo affogando Oh shit Shit Perché c'è scritto ciao Perché è molto importante Ciao Perché Uff Però Ok prendo Prendo queste cose Così almeno Così Almeno Abbiamo fare Tipo Lo sai Con strati Oh oh Stavo affogando Mi sento di nuovo Caput Tegna Caput Mi sento caputare Ok Allora Allora Io sto facendo la casa Io invece sto prendendo alcuni oggetti E sto per affogarmi E' giusto E' lasciamo perdere Lasciamo perdere quei due Così si fanno i figli Ok Si fanno i figli Ah sta diventando una notte Io ho dato una difficoltà a me E' anche io adoro Non è nemmeno Sta allargando il mondo qua Oh mio dio La difficoltà minima Da prima Santo cielo Oh si sta infiammando pure la casa E' scherzo 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 Ave maria piena di siiii Ma quanto carga si scrive Danza Anzata Aiutami Aiutami Devo fare la casa Si si sta bruciando la casa Che cazzo è Devo fare la casa ok facciano la casa tanto questa biblioteca bambini io adoro leggere i libri scherzo scherzo io adoro i libri ma valore solitario valore solitario ho salvato un bambino yes ho salvato ho salvato fatto un pezzo di bambini e un pezzo di regno sì ho salvato un bambino pezzo di regno che pezzente qui perché c'è e questa è la nostra l'altra casa che è già bruciata sto facendo parkour in questa casa bruciata bestie ok allora per per essere molto gentile lo metto qua il piccolo il piccolo marty no questa si dice tammi io dico tammi perché tammi è stato il migliore amico di sempre perché io l'ho incontrato per un secondo quindi ci siamo conosciuti ma che cazzo stai dicendo allora tammi è qua e sta per crescere ah e ho salvato un altro amico si chiama bene non si chiama bene non si chiama bene non si chiama bene si chiama si chiama si chiama tommy tommy e tommy e timmy e timmy e timmy non so dove sia non lo so è in bagno ecco le due vantaggi di tommy che cazzo stavo dicendo anzi che cazzo stai dicendo io io e tu oh mio dio hai fatto una casa grandissima quanto incesto quanto il mio ca... oh no caro amico oh grande grande cioè io sono spider anzi no ma che cosa sto dicendo allora per segretario per segretario e guarda che segretario oh guarda c'è una miniera fatta da noi ovvio ovvio e poi io sto sneak in ok allora 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 che schifo hai fatto un rutto e pazienza o che spavento ok allora si sta bruciando tutto anche la casa andiamo si e poi i nostri oggetti do cosa perché se ne frega i nostri oggetti oh cavolo te l'ho detto prima idiota ma perché qui non si vedeva niente perché qui non si vedeva niente ma come non si vede niente c'è stino se portiamo a raga è una strage di boschi e di case edica o di razione beh vediamo ma che fai ma che fai cretino guardando la terra e tu mi sei pure l'amato e la schifezza e lo schifezza e qui oh ma chi mi sta uccidendo scuola maremma maiana buco scavolo e dopo poco dopo oh ma sono in fiamme sono in fiamme sei fiamme vai vai di là dove ho costruito io il grande messaggio vedi la vai nell'acqua dai dai e kill e kill perché hai un osso in mano no io ho una spada è un piccone ma una spada è una spada nelle mutande che schizzi anch'io io io ce l'ho the long sword oh scusa oh alleluia e tu hai lascia in mano no guarda sembra che hai qualcosa dito i nostri libri nooo i nostri libri ci abbiamo scritto la biografia di la biografia adesso dobbiamo ricominciare la storia oh yeah cosa cosa allora io prendo nulla ok 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 a tutti i video